Una panchina mobile con due grandi ex del passato pronta a spostarsi nei vari angoli della città, nei suoi punti storici, quelli in cui magari il tifo la fa da padrona. La Lega B, in collaborazione con BKT Tires, ha scelto Bari e soprattutto il giorno del big match contro il Frosinone per questa iniziativa. Ad accogliere i tifosi Pietro Maiellaro e Sandro Tovalieri, calciatori che in maglia bianco-rossa hanno scritto pagine importanti del club anche in Serie A. La Lega, occasione propizia per firmare autografi e regalare palloni. Per noi è una cosa magnifica, bella e mi auguro che oggi possa finire nel migliore dei modi, cioè con la vittoria del Bari. Bellissima la cornice di pubblico, 40.000 sugli spazi. Non ci sono parole, per me non è una novità, so cosa può dare questa gente, come è affezionata questa squadra. È una città stupenda e sono stato onorato ed orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra. Non poteva mancare una considerazione sulla gara del San Nicola. È un onore essere qui in una partita importante, speriamo che vada bene, sarà una cornice di pubblico importante. Quindi vanno fatti solo i complimenti alla squadra, all'allenatore, alla società, al direttore per le stagioni che stanno facendo, che secondo me sono importanti e sono un viatico per un percorso che speriamo porti frutti positivi in futuro. Che dira la stella al capo canone? Beh, penso che non ci sono tanti aggettivi. È un grande giocatore, l'ha dimostrato, quando è mancato si è sentita la mancanza, però credo che se lui faccia gol, perché è bravo, è anche merito dei compagni che lo mettono in condizioni. Però chapeau a lui, perché veramente avrò piacere oggi di incontrarlo, di stringergli la mano e fargli i complimenti.